Sono Emanuele Menichetti, l'azienda è della mia famiglia, i proprietari siamo io e mio fratello. Io mi occupo delle vendite, sono l'export manager. Il territorio in cui alloggiano le nostre vigne è baciato costantemente da un sole magnifico e i vigneti sono esposti principalmente a sud-ovest con dolci colline che accompagnano l'armonia delle nostre vigne. La nostra cantina è biologica dal 2018 e a breve stiamo conseguendo la certificazione viva per la sostenibilità. Per me un buon vino è un vino che nasce dalla cura attenta di ogni singolo processo che conduce alla vendemmia e bevibile tutti i giorni con piacere. L'emozione che vivo ogni giorno quando mi reco al lavoro all'interno dei miei vigneti e dell'azienda è quella di vivere una sfida con me stesso, di riuscire a esportare in più paesi possibili nel mondo quello che è il prodotto dei nostri vigneti, della nostra famiglia e quindi della nostra storia.